Anche noi viviamo in tempi di martirio e in una cultura spesso ostile al Vangelo. Vi esorto ad avere il medesimo spirito di dedizioni che ebero i vostri predecessori. Amate Gesù sopra ogni cosa. Fate in modo che il vostro sì sia contrassegnato dalla ferma risoluzione di donarvi completamente alla vostra formazione sacerdotale, così che i vostri anni a Roma possono prepararvi a ritornare in Scozia e ad offrire pienamente la vostra vita. Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto alla comunità del Pontificio Collegio Scozzese ricevuta in udienza nella sala del Concistoro in Vaticano. A tutti il Pontifici ha ricordato il martirio di San John, la cui condanna aveva lo scopo di ridurre al silenzio la fede cattolica e che invece rappresentò un impulso per la sua promozione e per la difesa della libertà della Chiesa di rimanere in comunione con la sede di Pietro. Nel quarto centenario della trasformazione del Pontificio Collegio Scozzese in un seminario per la formazione sacerdotale, Papa Bergoglio ha invitato tutti a ricercare quello stesso ardore, testimoniando soprattutto a quanti sono più lontani da Cristo che Dio è sempre con noi e che la sua misericordia rimane per sempre.